La prima volta che ho lavorato in teatro, che è stata con l'esperienza di musical Giamburrasca, che è nel 2004, sono entrato in teatro e non l'ho più mollato. Sono dell'idea che bisognerebbe continuare la tradizione di questo meraviglioso teatro che è la commedia italiana, la commedia musicale italiana. La persona che recita controlla, controlla se stesso in quel momento più di ogni altro momento della sua vita. La capacità di porsi in maniera gentile attraverso il mezzo televisivo sia un obbligo, una necessità etica, perché tu stai parlando a tantissime persone che non vedi. Il mondo intero è questa grande, ma grandissima sala teatrale. Il grande contenitore. Il mondo, il villaggio globale di Popper è un villaggio proprio quello del teatro. Il mondo intero è un villaggio quotidiano che ha fatto a tutti i nostri livelli che ha fatto a tutti i nostri livelli che ha fatto a tutti i nostri livelli che un iniziali. Grazie.